buongiorno benvenuti in questo nuovo video sono malata fa male la testa la gola e ho il raffreddore la causa ieri ho fatto uno spettacolo all'aperto e c'era vento troppo vento per i miei gusti troppo vento tantissimo vento e sono qui con il mio dorato tablet che stavo giocando a The Sims ho freddo e volevo parlare con qualcuno infatti vedete ieri non mi è riuscito a tagliare l'eyeliner si è tolto stamattina da solo dormendo secondo me dormendo si è tolto oh mio dio mi sta scendendo la voce oh mio dio mi sta scendendo la voce ok dato che volevo parlare con qualcuno allora io dico adesso voi mi vedete un mostro perché faccio schifo veramente sto male ragazzi adesso ci facciamo un selfie dai un selfie con retrica eliminiamo si appoggia qui giusto ah si sto male ragazzi sto male comunque vi stavo dicendo dato che volevo parlare con qualcuno sono adesso lei in casa oggi è lunedì ma per voi è mercoledì oggi allora state guardando questo video chi questo video lo state guardando oggi che per voi oggi è mercoledì invece io l'ho girato oggi che è lunedì oggi veramente è lunedì ma per voi oggi sarà mercoledì ma oggi è lunedì tu dimmi quando e quando che non mi voglio sprecare la voce quindi sto davvero male papi si sta vedendo questo video capisci ma non lo so mi farete compagnia per tutto il giorno oggi e quindi aiuto non mi ricordo se nemmeno scaricato mi serve nel mio cancellatore registratore locale bene adesso ci vediamo alla postazione di quando faccio il video infatti da notare i capelli secchi con la lacca perché ieri ho fatto tipo un ciuffetto così aspettate ecco ho fatto un ciuffetto non ho fatto nemmeno colazione beh ho fatto con patatine e nutella ho mangiato un po' di patatine che erano rimaste e poi un cucchiaio di nutella voi non la chiamerete colazione questa perché non è affatto una colazione la colazione è latte con cornetto un attimo risponde mia madre è ritornata infatti mia madre ma chi è? era un amico di mia madre 3 è un amico di mia madre non è un amico di mia madre è un amico di mia madre dovrebbe rispondere mia madre che è ritornata ero da sola prima in casa forse un po' di tv ci farà bene però oggi voglio essere pessima non so perché perché mi sento male e perché non riesco a fare niente è vero oggi è il compleanno della cugina di mio padre comunque questo non c'entra e credo che questo vlog casalingo vi farà noia perché sono malata credo che mi stia venendo la febbre e quindi credo che mi stia venendo la febbre quindi gli occhiali insieme di mio padre gli occhiali vecchi mi fanno male da notare da notare sostanzialmente la mia frangia è piena di lacca andiamo a vedere se c'è un zucco di frutta in frigo magari infatti non c'è c'è tutto ma non c'è i miei ustel dai mi prendo uno anzi no 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 la pizza voglio la pizza questa parte non l'abbia avete mai vista della casa no l'avevate vista adesso ci rilassiamo questo non è il mio cellulare il cellulare di mio madre che con il mio si sta girando ah giusto non la so la password mamma perché da notare lei questa è mia madre aspettate questa è mia madre ecco e c'è la password ha imparato ha imparato molto presto a mettere le password già dall'anno scorso lo sapevamo dato che vi state annoiando io dico cosa vale dico perché non ho più un cervello quando io sono influenzata non ho più un cervello perché non capisco niente e non riesco a dire niente devo dire a mia madre che aspetta forse con questo mi rilasserò di mia sorella che lo regalerà assolidanzato fabbricato in cina rachi è cinese questo coso perché l'hai comprato perché è così carino no per me non è carino sono anche un po' in fabbri di amore non sei carino tu lui non è carino aspettate ho un regalo che vi farà questa bonitafala è bellissima vedete cioè dico cosa è senza sempre cosa posso dire voglio che mi fate delle domande su come mi sento quando ho l'influenza e voglio rispondervi in un altro video che girerò con la videocamera naturalmente c'è da notare mia madre ha rotto il vetro perché è sempre colpa mia io avevo graffiato un po' il vetro e quando è caduto dato che quando si graffia il vetro e il vetro è debole si è staccato non so se è riuscito a vedere magari con la luce sì ecco 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 invece il mio cellulare non si fa niente si cade a cento volte è caduto più di cento volte a schermo a terra non c'è fatto niente comunque vi volevo annunciare e volevo premettere che non mi sono toccata adesso era il trucco di ieri di quando ho fatto lo spettacolo voglio vedere se c'è qualcosa qui dentro ma no sarà la mia maglietta della regina dell'anno scorso aspetta giusto un po' niente questo video si deve vedere in parte perché tra poco lo spegnerò l'acqua di camera niente ci vediamo la prossima parte quella di oggi pomeriggio sera di mattina tra poco vedrò la televisione niente di che avete visto cosa stavo facendo ci vediamo oggi per la seconda parte cioè di pomeriggio poi per la terza di sera e grazie di essere stati con me spero di cuore in fretta no e sono stata molto contenta di parlare con voi un bacio ci vediamo dopo ciao